A fuoco un campo di grano di 30 ettari in località Falcinetto a Fano. In azione vigili del fuoco con sette mezzi, paura per due abitazioni lambite dalle fiamme. Vaccini assicurati anche ai turisti in vacanza nelle Marche, Saltamartini annuncia a giorni partiranno le prenotazioni. Via Lamianto dagli ospedali delle Marche, dalla regione quasi 5 milioni di euro per la bonifica di 21 strutture. Baldelli commenta, puntiamo alla tutela della salute di pazienti e operatori. Accesa la nuova illuminazione alla cavia dell'Idoafano, sabato si inaugura il sottopasso di Viale Caironi. Avvistato un gruppo di delfini a largo del porto di Fano, ecco il video girato in mare e condiviso sui social. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano l'incendio che si è sviluppato in zona Falcinetto a Fano, dove è andato a fuoco un campo in parte di grano e in parte di sterpagli. I pompieri al lavoro per quattro ore sono riusciti a domare le fiamme e per fortuna nessuno è rimasto ferito. Io ero seduto lì, ero riposato un attimo, ho fatto una faccendina e poi mi sono messo seduto e poi pensavo che era qui da me. E cos'è quel fumo laggiù? Mi sono alzato e invece era da parte di là della strada. Paura in località Falcinetto a Fano per un vasto incendio che si è sviluppato in un campo di 30 ettari in gran parte coltivato a grano. È successo questa mattina alle 11.45 vicino all'uscita della superstrada Fano-Grosseto. Decine le foto e i video inviati dai nostri reporter di strada, dai quali si vede da lontano una grossa nube di fumo nero levarsi su un quartiere di Bellocchi. Più vicino invece il rogo che ha divorato ettari di terreno. Come si nota dalle immagini che Fano-TV ha trasmesso in diretta, mano a mano le fiamme si spostavano verso due abitazioni mettendole a rischio. Ma per fortuna i vigili del fuoco sono riusciti a spegnerle in tempo. I pompieri sono intervenuti da Fano, Pesore e Cagli con sette mezzi in totale tra autobotti e campagnole idriche. Un lavoro che è proseguito fino alle 16. Nel frattempo un contadino della zona ha preso suo trattore per creare delle linee tagliafuoco nel campo che hanno l'obiettivo di evitare il propagarsi delle fiamme. Sul posto anche i carabinieri, comprese le unità forestali e la polizia. Io ero seduto lì, ho visto il fumo, appena sono alzato a vedere e poi ho chiamato subito i pompieri. Ancora era proprio lì nella scarpata, però già i pompieri mi avevano detto che erano stati avvisati. Che salvava, era il vento che portava tutto di là, quindi qua da noi non c'era il pericolo. Però io avevo paura di quelle case là perché il fuoco andava avanti e veloce. Per l'incendio così bisogna circondarlo un po' perché mi ha paura. L'origine del rogo, ci hanno fatto sapere i pompieri, è accidentale e non si esclude che possa essere stato innescato da un mozzicone di sigaretta gettato incautamente dal finestrino di un'auto in corsa. E andiamo avanti con la sanità. Oggi nelle Marche non sono stati registrati decessi legati al coronavirus, rimane basso l'indice di positività che è dell'1,4%. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 16 contagi, mentre negli ospedali della regione rimane invariato il numero dei pazienti sia in terapia intensiva che in quella semi-intensiva. Potrebbe partire in settimana sul sito della regione Marche, forse giovedì o venerdì al massimo uno slot di prenotazione dei vaccini per i turisti che trascorreranno le vacanze nelle Marche. Chi viene dalle altre regioni, ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, si potrà prenotare. Il sistema elettronico che viene concordato con tutte le altre regioni consentirà lo scambio dei vaccini in numero pari a quelli somministrati, perché in questo momento le consegne delle fiale avvengono sulla base del numero dei residenti. La collocazione del centro vaccinale per i turisti, ha precisato Saltamartini, sarà individuata sulla base della prossimità del luogo alla villeggiatura. Il presidente della regione, Francesco Acquaroli, ha partecipato al consiglio direttivo di Confartigianato Ancona-Pesero-Urbino. A breve verrà approvata una legge per il rilancio dell'artigianato. Costruzione di sinergia per la ripartenza, attenzione al sostegno delle imprese in questa fase delicata e interventi mirati per il rilancio del turismo con la valorizzazione delle ricchezze del territorio. Questi temi al centro del confronto tra i dirigenti di Confartigianato Ancona-Pesero-Urbino e il governatore Francesco Acquaroli durante il consiglio direttivo dell'associazione di categoria. Tra le altre questioni di cui si è dibattuto anche la nuova normativa in materia di sviluppo dell'artigianato marchigiano in fase di approvazione che aggiorna la legge precedente. Confartigianato infatti ha contribuito alla sua definizione indicando alla regione le esigenze delle imprese adeguate al contesto economico. La realtà per quanto riguarda la nostra zona è sicuramente che ci sono degli ottimi segnali positivi per quanto riguarda la ripresa. segnali interessanti. Ci sono anche dei punti di criticità che sono molto evidenti per quanto riguarda sia l'acquisizione delle materie prime, i costi delle materie prime che stanno mettendo in difficoltà molte imprese che stanno ripartendo. E un altro problema che ci sta preoccupando è un po' quello che riguarda proprio la reperibilità della manodopera. Bisogna sicuramente avviare un percorso sia di formazione delle figure che poi vengono richieste e è possibile occupare sul territorio, ma anche un percorso come dire di incontro, domanda, offerta per quelle che possono essere poi le esigenze del territorio. I nostri imprenditori ora hanno voglia di fare e di lavorare, ha proseguito il presidente Sabatini. Bisogna puntare anche sull'innovazione e digitalizzazione. Sul fronte delle vaccinazioni, ha spiegato invece il segretario Marco Pierpaoli, le marche sono tornate ad essere un'eccellenza e con Fartigianato ha sottoscritto un accordo con Federfarma per la somministrazione delle dosi nelle farmacie a imprenditori e lavoratori. Alla regione chiediamo di fare squadra, come insegna la nazionale del nostro CT, Roberto Mancini. Chiediamo al presidente Acquaroli di fare quello che sta facendo, cioè essere sempre più vicini alle imprese. Abbiamo un grande gap che va colmato, uno come evidenziava è quello infrastrutturale. Infrastrutture materiali e immateriali. Dobbiamo far sì che questa regione sia accessibile. Lavoriamo tanto sul tema del turismo, si sta facendo bene, ma dobbiamo cercare di rendere attrattiva questa regione anche rendendola vicina alle altre. E dalla regione è stata dimostrata piena disponibilità il confronto. Il presidente Acquaroli ha proposto l'apertura di tavoli periodici con l'associazione e gli imprenditori affinché possano segnalare le priorità da tradurre in bandi e opportunità di credito. Stiamo cercando proprio ieri, oggi, anche domani faremo delle sessioni speciali con gli uffici per cercare di mettere a terra le interlocuzioni necessarie e indispensabili che abbiamo avuto in questi mesi e cercare di tradurre tutte quelle che noi vediamo come idee e proposte e progettualità in cantieri. Ospedali senza amianto andiamo spediti verso il risultato con un investimento di 4,7 milioni di euro. Così l'assessore regionale Francesco Baldelli che ha commentato la convenzione con le aziende ospedaliere per la rimozione dell'amianto in 21 ospedali distribuiti su tutto il territorio marchigiano. È inaccettabile, ha detto l'assessore, che ancora nel 2021 ci siano nosocomi con tracce di amianto. Per questo interveniamo per risolvere definitivamente un problema che si trascina da decenni. Quindi puntiamo alla tutela della salute e della sicurezza di operatori, pazienti e furitori delle strutture. Nel piano rientrano anche gli ospedali riuniti Marche Nord. Dal casello di Santa Veneranda al collegamento della Orte Falconara fino alla Fano Grosseto e alle opere compensative di autostrade. Tanti i temi al centro dell'incontro avvenuto ieri a Pesaro tra l'ex ministro Paola Di Micheli e il sindaco Matteo Ricci. C'era per noi Angelica Panzieri. Il casello di Santa Veneranda sembrava dimenticato ma qualcosa si muove. L'ex ministro delle infrastrutture Paola Di Micheli, ieri a Pesaro nella sede del Partito Democratico, assieme al sindaco Matteo Ricci ha parlato di velocità dei cantieri e di opere pubbliche come strumento fondamentale per rilanciare il paese. Dalla Orte Falconara, collegamento più importante per le Marche rispetto alla quale la Di Micheli ha spiegato che i soldi ci sono e la progettazione pure, alla Fano Grosseto fino alle opere compensative di autostrada. L'onorevole ha elogiato Pesaro per essere avanti rispetto alle richieste di finanziamento con progetti validi che riguardano il contesto locale. Durante l'incontro il sindaco Ricci ha fatto leva sull'importanza di semplificare, ricordando i progetti in cantiere, tra i più importanti anche quello della Pesaro Urbino da 200 milioni di euro, per il raddoppio della Monte Labattese fino a Morciola e per un'ulteriore bretella da lì fino a Trasanni, per rendere più raggiungibile la città di Urbino. Noi abbiamo già fatto molti interventi per velocizzare le attività di realizzazione delle opere. Saranno molto più competitive le amministrazioni, gli enti locali, ma anche le amministrazioni nazionali che hanno i progetti e che sono in grado di progettare il cambiamento dei propri territori. Questo varrà sia per le infrastrutture che per tutti gli interventi sulla qualità urbana, per tutti gli interventi di inclusione sociale. Credo che Pesaro sia già molto avanti rispetto anche alle richieste di finanziamento su progetti che riguardano la città e che modificano radicalmente alcune aree della città, migliorandone la qualità urbana. Oggi, discutendo con voi, è emerso come ci sia bisogno che questa fase di crescita positiva, per fortuna, questa fase di crescita del prossimo semestre raggiunga tutti e che non ci siano categorie di imprese o categorie di lavoratori esclusi dalla fase di crescita. Questo sta dentro alla nuova linea politica di Ricoletti del Partito Democratico. Oggi vi proponevo una domanda e una risposta. Per chi questa crescita? E io credo anche, e per le piccole e medie imprese, e io credo anche per tutte le categorie di lavoratori. Da ex sindaco di Pesaro, gioisci anche Luca Ceriscioli, ieri presente all'incontro, per le notizie positive portate dalla De Micheli sulle opere accessorie. Lì si vede come i lavori che stanno facendo sulla circonvallazione di Muraglia, con l'acquedotto che viene trasformato da cemento amianto in acciaio, quindi anche una riqualificazione che era prevista fin da allora. I progetti sono rimasti quelli, si sono persi due anni per i problemi che ci sono stati fra l'autostrada del governo, però si vede che come i problemi sono stati sanati queste opere ripartono. Per noi, come città, dicono un fatto straordinario perché sono 100 milioni di euro complessivamente di opere e permettono di realizzare sostanzialmente il 90% della pianificazione di viabilità del piano regolatore. È una città che secondo me già oggi ha una viabilità di grandissima qualità e livello. Oggi è la soddisfazione di vedere i cantieri sui quali abbiamo lavorato almeno un paio di sindaci da tanti anni a questa parte e con la paura di qualche anno fa che tutto potesse rimanere sulla carta. E pesero a zero l'IVA sugli assorbenti e prodotti igienici femminili nel segno di una battaglia di civiltà, democrazia ed uguaglianza. A partire da oggi le farmacie comunali applicheranno uno sconto su assorbenti, tamponi e coppette come previsto dall'iniziativa denominata Il ciclo non è un lusso, promossa dal comune da Aspes. Tra le prime a proporre l'adesione alla campagna nazionale No Tampon Tax è stata la consigliera Camilla Murgia. L'IVA per le lamette da barba, spiegato in Italia, è al 4% perché ritenute beni di prima necessità. Invece gli assorbenti, come anche i pannolini per neonati e anziani, sono sottoposti all'aliquota ordinare del 22%. Costi ingenti, ha concluso la consigliera, soprattutto se si considera che una donna in media acquista 15.000 confezioni di assorbenti, una spesa che ricade sull'intero nucleo familiare. E torniamo a Fano per parlare di lavori pubblici perché la cavea del Lido ha una nuova illuminazione scenica. Ieri sera è avvenuta l'accensione ufficiale, mentre sabato prossimo verrà inaugurato il sottopasso di Viale Cairoli dopo i lavori di riqualificazione, tutti particolari nel prossimo servizio che è stato curato da Filippo Pucci. È sicuramente più bella, ma soprattutto più romantica e scenica, la nuova riqualificazione che ha interessato la cavea del Lido, lasciata un po' a se stessa nel corso degli ultimi anni. Da ieri sera, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, la struttura è rinata dopo l'intervento alle travi in legno e l'installazione di nuovi fari a LED. I luci nuove architettoniche che naturalmente vanno ad evidenziare sia tutto quello che è la passeggiata all'interno ma anche l'area dell'anfiteatro. Quindi per approfondire e esplorare anche delle zone che magari prima erano in ombra vuole essere una vera e propria riaccensione dopo un periodo così lungo di buio come quello che abbiamo attraversato. Oltre a questo è stata fatta anche una riqualificazione di carattere vegetativo, abbiamo tolto i pitospoli che erano diventati un ricettacolo di immondizie, oltre che proprio ostacolare la bella vista del mare. Abbiamo anche migliorato l'arredo con delle nuove panchine, per cui mi sento di dire che abbiamo restituito alla città un luogo prestigioso. Inoltre proseguono spediti anche i lavori al sottopasso di Viale Cairoli, recentemente chiuso per i lavori di sicurezza e ammodernamento dopo le numerose segnalazioni dei cittadini. Tra gli interventi una nuova pavimentazione, la pulizia delle mura, nuova illuminazione di ultima generazione e una sorpresa realizzata dagli studenti del liceo Nolfi a Polloni. Naturalmente questa riqualificazione continua, tanto che sabato andremo poi a inaugurare anche quello che è il sottopasso Lido, con sabato pomeriggio proprio alle 6, anche lì con un coinvolgimento della città tutta, proprio perché abbiamo voglia di cambiare insieme tutto quello che è l'aspetto della nostra città. E l'assessore Brunori ha annunciato anche l'avvio dell'intervento sui 66 punti luce del circuito ciclistico Marconi, che verranno sostituiti con nuove lampade LED. Un intervento ecosostenibile, ha dichiarato l'assessore al decoro urbano, determinante per la riduzione dei consumi ma anche per il miglioramento della luminosità. Cambiamo argomento, la Proloco di Montemaggiore ha deciso di aprire lo splendido borgo all'arte, con una mostra che vede esposte le opere di 10 giovani artisti provenienti dalla provincia di Pesero Urbino. Ragazzi e ragazze dai 10 ai 30 anni appassionati di pittura, disegno e arte digitale. Gli spazi dedicati ai giovani artisti sono situati agli estremi del centro storico. Si tratta della sala Centro Studi Mario Luzzi e quella del Santissimo Sacramento. Percorrendo via Belvedere Churchill potranno essere ammirate anche le sculture messe a disposizione dagli artisti dell'Associazione Pro Art di Piagge. La mostra rimarrà aperta tutti i fine settimana del mese di luglio e su prenotazione anche negli altri giorni. A Fano invece è nato un gruppo di esperti al lavoro per nuovi progetti culturali. Nei prossimi mesi verranno raccolte tutte le varie proposte da parte di istituzioni, associazioni e cittadini e poi a settembre verrà presentato il piano di fattibilità. Tra gli obiettivi valorizzare eventi e monumenti ma anche farsi trovare pronti per accogliere l'esippo. Dopo il piano strategico l'amministrazione comunale prosegue in questo percorso? Sì, questa è la presentazione di un gruppo di giovani professionisti e professioniste molto qualificati in varie discipline per elaborare dei pensieri sulla città. Loro chiamano un pensatoio, tradotto in italiano, un think tank, e di mettersi in collegamento con altri pensatoi di altre città per guardare al futuro. Quindi l'individuare dei punti di azione e condividerli con le intelligenze della città, ma anche la gente, fa crescere un'identità che consente a tutta la città di muoversi in una direzione per vincere delle sfide future. Quindi prossimamente ci presenteranno un programma mirato e tempestivo di alcune cose. Questa è un'altra frontiera che si confronta con la Convenzione di Faro, quindi con progetti pilota che possono dare tanta soddisfazione e identità alla città e aprirla sempre di più al mondo con ricadute positive. Io penso che si lavorerà sia su concetti materiali, come i monumenti su cui già stiamo investendo per promuoverli sempre di più e riempirli di contenuti, ma anche su concetti immateriali. Pensate al carnevale, pensate ai beni culturali della città, ai fondi storici, archivistici. Dipende appunto se un lavoro in continuità che viene fatto, si seminano delle idee e poi gli si danno le gambe. Questo per non fossilizzarsi su cose già in parte conseguite, ma per lasciare anche un'eredità a chi verrà dopo. E un branco di delfini è stato avvistato oggi a largo del porto di Fanno. A fare la curiosa scoperta questa mattina è stato Roberto Forsoni, che ha girato le immagini, poi pubblicate sul profilo Facebook e condivise anche sulla pagina social del porto turistico Marina dei Cesari. Tra poco trasmetteremo il terzo approfondimento, che è stato condotto da Maria Elena Delbianco e dedicato a Passaggi Festival, che partirà venerdì prossimo. Domani mattina invece il direttore Marco Ferri tornerà in diretta per il commento alla stampa. Buona serata a tutti voi. Grazie.